ciao maria ciao come stai ansia ma quale ansia un po dove vieni da termoli fantastico io sono mimmo e sarò il tuo video sarò sempre davanti a te tranquilla rilassata e se ce la facciamo a stringere perché talmente piccina si è da sola mariana si è da sola proprio all'avventura esatto oggi è il mio compleanno e quindi ho fatto un bel regalo mani è il mio ah vedi non lo dirà nessuno no no non ti fanno gli auguri prima va bene ci divertiamo direi meno bene Exno Musica 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 Grazie a tutti Mamma mia, che forza Vai libera Mi sento male, è stato bello Grazie, grazie a tutti Grazie mille Grazie Mettilo qua agli occhiali Sì, brava Ok, fantastico Fai Così brava È stato bello, è stato fantastico Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti